i colori sono diversi ognuno di loro ha una sua gradazione alcuni sono scuri altri sono chiari qualcuno è proprio bianco e altri sono neri in natura ogni cosa è differente per grandezza per colore per forma ma la cosa più bella è che la natura stessa è imperfetta la natura stessa è la natura stessa buongiorno benvenuti alla prima lezione di pittura del mio metodo sono un maestro d'arte e artista ma potete chiamarmi victor veniamo a noi per la realizzazione di un dipinto che possa poi eventualmente diventare un'opera d'arte occorre rispettare alla lettera alcune regole fondamentali perché nell'arte come nella vita ci vuole disciplina innanzitutto dovete prendere la giusta distanza dalla tela non troppo vicino non troppo lontano dipingeremo il soggetto che io prediligo l'albero ebbene il soggetto e in questo caso l'albero deve essere rappresentato proprio al centro della tela non troppo in alto non troppo in basso e partirò in questo modo proprio dal centro solo dopo aver realizzato il tronco potrò concedermi la chioma verde naturalmente ora potete realizzare un vero dipinto realizzando un albero esattamente dico esattamente come il mio solo in questo modo potrete forse avvicinarvi alla realizzazione di una vera opera d'arte come questo mio meraviglioso capolavoro avete domande? no bene e allora potete cominciare bene 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 yeah Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.